Lei ha presieduto il tavolo sulla cooperazione, qual è il messaggio finale che possiamo cogliere? Il messaggio finale, credo anche il messaggio più importante, condiviso da tutte le autorità, è quello di un rafforzamento della collaborazione e della cooperazione nella prospettiva sostanzialmente di un rafforzamento della tutela della persona umana nel rapporto con la tecnologia e quindi sostanzialmente con un trattamento più esteso dei dati personali.